Buon pomeriggio, benvenuti virtualmente al Circolo dei lettori di Torino. Questo pomeriggio incontriamo Oscar Di Montigny, un giovane autore perché ha la sua seconda opera, è soprattutto un divulgatore, un keynote speaker internazionale e si occupa di sostenibilità e di strategie valoriali all'interno di una banca molto importante che è Banca Mediolanum, ha fondato la Mediolanum Corporate University ed è fondatore di una start-up che si chiama Be Your Essence ed ha un blog che si chiama Riflessioni per il terzo millennio. Oggi festeggiamo la due giorni dall'uscita del suo secondo saggio, possiamo definirlo così, l'identità di questo libro dal titolo Gratitudine, la rivoluzione necessaria, edito da Mondadori e chiaramente nella giornata di oggi potete riuscire ad avere questo libro anche attraverso la libreria Luxemburg di Torino per chi ci segue da Torino. Per le persone che ci seguono invece da fuori Torino valgono tutte le librerie che vendono i libri mondatori e chiaramente vale il web. Allora, Oscar Di Montigny, classe 1969, un lavoro nel mondo dell'economia e nel mondo della finanza ma un amore per le materie umanistiche. Da che cosa nasce questa tua passione per l'essere umano? Cioè quando ti sei innamorato dell'essere umano? Ciao Cristiane, buongiorno a tutti, grazie a te per esserci, grazie a chi ci sta seguendo e grazie per questa fantastica domanda. La mia… ci eravamo detti, non mettiamoci d'accordo sulle domande, così mi sorprendi. Però… La sua volta dirò ok, vabbè, forse era meglio mettersi d'accordo. Allora, bella, bella, la passione per l'umano nasce nel 1990, quando io sono da 69, quindi all'età di 21 anni, un po' così, rapito dalle domande adolescenziali, scappo negli Stati Uniti dell'America e vado a vivere a San Francisco, convinto che cambiando ambiente, nel senso proprio, cambiando contenitore, che vuol dire città, all'opera della mia famiglia, stile di vita, avessi potuto creare delle condizioni migliori per così rispondermi a quelle domande che in quel momento attanagliavano la mia vita e alle quali non riuscivo a trovare delle risposte. Dopo un anno di permanenza così da adolescente a San Francisco, mantenendomi, lavorando, ho trovato una grande risposta a queste domande che mi hanno poi indotto a iniziare questa ricerca appassionata dell'umano, perché non ho trovato risposte e mi ero reso conto che finita l'illusorio cambio di contesto che mi aveva indotto a credere che stessi cambiando io, lentamente sono riemerso per quello che avevo lasciato in realtà a Milano. Le domande sono tornate, quel periodo della mia vita assumevano una forma di insoddisfazione, insofferenza e da lì ho iniziato a cercare, cercare, cercare e finalmente nel 1999 ho trovato delle idee molto interessanti sullo sviluppo del sé e indagando la parte così interiore e intima dell'essere umano, non biologicamente parlando ma intima, mi sono appassionato alla filosofia, all'arte, alle scienze, soprattutto la neuroscienza, la psicologia e anche all'economia e mi sono innamorato proprio dell'essere umano, perché a mio parere l'essere umano è la più bella, nobile invenzione che il creatore, se esiste, o comunque che il fatto, il destino, l'accidente abbia saputo creare e quindi ho iniziato a studiare me stesso per capirmi un po' meglio. Non ho trovato ancora risposte qui a quelle domande del 90, però ho trovato domande più grandi. Sì, infatti mi sembra che tu teorizzi anche e soprattutto la necessità di farsi delle domande, al di là del trovare delle risposte, però la necessità di essere animati dal desiderio della comprensione di se stessi e in generale del mondo nel quale viviamo. Però io direi che forse questo saggio, così lo vogliamo definire, ci racconta che il tuo percorso è a buon punto, perché sei arrivato a teorizzare che è necessario trovare un equilibrio tra l'essere e l'avere per raggiungere quello che tutti desideriamo, ovvero la felicità. E questo equilibrio, secondo Oscar Di Montigny, è articolato su quattro discipline, che sono poi quelle che hai citato come le tue passioni, ovvero la filosofia, l'arte, la scienza e l'economia. Ora, il titolo però del saggio è Gratitudine. Qui la gratitudine, diciamo, dove la collochiamo? Come la inseriamo anche all'interno di queste tue curiosità, all'interno di queste sfere dell'esistenza che più o meno coinvolgono molte persone, forse quasi tutti? Assolutamente, tutti. Hai citato le quattro discipline attorno alle quali sì, ho condotto i miei studi. Queste discipline a propria volta ci sono state trasferite. Tuttora, mi piace dire, sto cercando di educarmi allo studio di queste discipline, anche con una guida, una persona a cui devo molto, si chiama Patrizio Paoletti, che ha proprio canonizzato questo acronimo che si chiama FASE, Filosofia, Arte, Scienza e Economia. È stato così fonte di un primo svelamento, perché sto indagando, grazie anche ai suoi insegnamenti, come la filosofia sia l'arte sia l'indagine su una domanda essenziale, che cosa sia bene. Credo che la dimensione filosofica nella sua forma ancestrale sia proprio afferente alle prime domande che l'uomo si è fatto, cosa è bene, sul senso delle cose. Andando veloci, l'arte è l'indagine che l'uomo fa nel tentativo di plasmare la materia per rispondere alla domanda su cosa sia bello, quello che però è fonte anche di educazione, di orientamento. Poi arriva la scienza che svelamento dopo svelamento, spesso anche rinnegando se stessa, perché poi la scienza in realtà con gli svelamenti lungo i quali si manifesta in realtà spesso contraddice i suoi credo precedenti, indaga il concetto di verità e poi arriva l'economia che dovrebbe indagare il concetto di giustizia, nell'accezione proprio più inclusiva e comprensiva. E quindi credo che queste siano proprio forme che afferiscono la vita di tutti noi, cioè non dobbiamo pensare all'artista come lo scultore, al pittore, al filosofo come laureato in, ma chi di noi non si fa domande sul senso delle cose, chi di noi non riconosce nella bellezza una antica forma educativa e nella scienza la profondità del senso del vero e chi di noi non vorrebbe un'economia giusta, dove per giustizia si intende il perseguimento di un valore universale che contempli il benessere, la prosperità di tutti e non solo di una parte. E quindi si arriva alla gratitudine perché, come ho imparato, perché non sono stato educato al valore della gratitudine nella sua accezione più nobile, è la memoria del cuore. La gratitudine è il segno che lasciamo dietro di noi ogni singolo istante, è la capacità profonda, consapevole e cosciente di saper ringraziare la gran parte dei doni che riceviamo nelle nostre vite quotidianamente che sono tali, perché la vita stessa non ci era dovuta e spesso ce lo dimentichiamo. Credo che questo momento sia un momento potente per educarci al senso di gratitudine verso la vita, verso gli altri, verso il pianeta. Trovo che stiamo avendo un momento potenzialmente di enorme consapevolezza. C'è da dire che questo libro chiaramente è stato scritto prima che tutto questo accadesse, per tutto questo intendiamo la pandemia da Covid-19 e doveva uscire nel mese di marzo. Poi chiaramente l'indisponibilità delle presentazioni, anche il desiderio di capire come posizionare il libro ci ha portato al mese di maggio, ma in realtà questo libro sembra scritto per affrontare questa emergenza, perché sembra raccontare la necessità del cambiamento, appunto gratitudine e la rivoluzione necessaria è come se, secondo l'autore, all'interno del sistema sociale si dovessero immaginare degli scenari diversi per affrontare il futuro. E tra questi scenari chiaramente quello attuale, dal momento che all'interno di questa ricetta del Paoletti, filosofia, arte, scienza e economia, ci sono insieme due cose che oggi sembrano essere un po' tra loro in contrasto, ovvero la scienza e l'economia, perché da un lato la scienza vorrebbe forse per alcuni virologi maggior cautela e maggior attenzione rispetto anche alla riapertura con chiaramente dei piccoli avanzamenti del nostro Paese, dall'altra parte però gli economisti sono molto preoccupati di quello che sta accadendo a livello economico a causa del lockdown. Quindi ti chiedo Oscar, anche per stare un po' nell'attualità, come tieni insieme la scienza e l'economia in questa fase? So che hai già raccontato in diversi articoli, però dalla viva voce, anche perché alcune delle domande delle persone che ci seguono in diretta su Facebook sono proprio in relazione a questo, cioè scienza, economia e tempi del Covid-19, come le tieni insieme? Torno dell'idea che avevo dovuto farmi dire prima le domande stavolta. Ma guarda, torniamo alla scienza, credo che si possa convenire sul fatto che la scienza sia l'indagine della verità, nella dimensione della materia. Tra l'altro è molto curioso perché alcune scienze si sono spinte così lontano che oggi ad esempio entrano a volte conflitto con la loro forma oraria. Pensiamo alla fisica, la fisica tradizionale rispetto alla fisica quantistica, a volte c'è linearità e continuità, a volte c'è conflitto. Se pensiamo alla pervasività della tecnologia in tantissime scienze, pensiamo quando la tecnologia si unisce alla biologia e nasce il biotech, alla genetica, al gente, alla finanza, al fintech, si potrebbe andare avanti. Ecco che si aprono scenari, dimensioni importanti, perché sono dimensioni nuove, nuove per dove la nostra specie, l'umanità, è giunta in questo momento storico, perché la pervasività della tecnologia, così come la stiamo osservando in questa epoca, è nuova per l'umanità e spesso le nostre invenzioni vanno molto più veloce della nostra capacità di adottarle. Io abbi la fortuna in passato di incontrare tante persone, devo dire che mi sono stato un po' da stella polare. Non posso che annoverare fra queste Tara Gandhi, la nipote del quarto genito del Mahatma Gandhi, una signora oltre nuvantenne, carissima amica, è diventata da allora, che è cresciuta per qualche anno nell'ashram con lui. E quando parlavamo così dell'esperienza che lei ha vissuto, e raccontandomi degli aneddoti, mi raccontò che suo nonno, Mahatma Gandhi, era solito dirle, Tara non è la velocità che fa la differenza, ma l'orientamento. E quindi c'è una riflessione in questo tempo in cui la tecnologia ci sta consentendo di andare velocissimi, che è questo. Siamo certi di saper dare il giusto orientamento a tutta questa capacità di fare che riusciamo a tradurre poi, praticamente, ad esempio in tecnologia. Siamo certi oggi di poter gestire con sincerità, mi piace usare questa parola, una app che è che andrà a raccogliere informazioni in tempo reale di tutti, ovunque. Siamo certi che un vaccino possa avere unicamente un destino d'uso benevolo? Io non ho una risposta e non voglio con questa domanda fare della bassa retorica, lasciare presumere che io stia rispondendo. Però se osservo la storia dell'umanità, delle domande me le pongo. Allora è lì che viene in arrivo all'economia. L'economia, a me piace studiare molto le parole, perché ho trovato che è una buona modalità per non litigare con gli altri, perché tutti discutiamo sul senso delle cose, sui valori, sulle idee. Poi una parola diventa un manifesto, un manifesto rappresenta un'ideologia e arriviamo in situazioni dove in nome di Dio, che dovrebbe essere un valore assoluto, addirittura uccidiamo, perché ci ha pervaso talmente tanto quell'ideologia che non la controlliamo nemmeno più. Allora vado a studiarmi spesso le parole e sul vocabolario, almeno sul mio, la parola economia come terzo significato, o sfondo non ricordo, c'è esattamente arte di reggere e bene amministrare le cose della famiglia e dello Stato. Allora io ho riflettuto sul perché l'anno chiamata arte e non ad esempio la disciplina del reggere e amministrare le cose della famiglia e dello Stato. Arte. E poi c'era quella particella curiosa che sembra superflua, che è bene. Allora parlando economia forse in troppi potremmo presumere che l'idea di bene legata all'economia sia in maniera, significhi, in maniera redditizia, proficua. Però bene vuol dire tante cose. E quindi mi sono detto, l'economia dovrebbe essere una forma d'arte. E tu lo sai benissimo, meglio di me, l'arte che cosa sia. L'arte è un'interpretazione, l'arte è bellezza, l'arte è educazione. Allora perché anche l'economia non può essere ragione di educazione se è espressa bene? E bene che cos'è? Per me bene è solo ciò che è universale, solo ciò che è bene per tutti. Perché se iniziamo a dire ciò che è bene per me rispetto a ciò che è bene per te, forse io e te abbiamo anche la fortuna di assomigliarci, per avere gli interessi potremmo anche scoprirci d'accordo su tante cose. Ma oggi in un mondo dove grazie alla velocità si incontrano così tante diversità, l'ordine di complessità che abbiamo raggiunto è enorme. È certo che incontreremo popoli, gente con ideologie, con culture, con abitudini stante le quali la nostra idea di bene non coinciderà con la loro. Allora la dimensione economica improvvisamente si scopre insufficiente, incapace di gestire quel ordine di complessità. E quindi alla fine l'economia, grazie alla scienza, dovrebbe essere capace di ritornare al suo valore originario, di produrre norizza, prosperità. La ricchezza come tale, lo stiamo vedendo, non è ben distribuita, produce diversità, ineguaglianza e quindi rancore e quindi guerre, piuttosto che chi ne è mosso in maniera rapida per accumulo, 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 esagera. La prosperità è molto più interessante, perché la prosperità è come un terreno fertile, in un terreno fertile un buon seme produce certamente un buon frutto. E allora ecco che l'economia dovrebbe essere asservita per produrre prosperità. Quindi quell'idea di bene per me è bene per tutti, è un bene universale. Quindi o io produco un atto economico che produce un vantaggio per tutti, se produce un vantaggio parziale solo per me o solo per noi non è un atto economico. Per me l'atto economico per eccellenza è l'atto d'amore, che per sua natura genera naturalmente gratitudine, che è la più alta forma d'arte che un essere umano possa produrre. Questo pensiero in realtà però ha un nome, cioè all'interno del tuo saggio scopriamo che sei il teorizzatore di un'economia sferica, ovvero un'economia che rispetto alle 5 P che le Unite hanno diciamo fissato come termini di riferimento di questa, come dire, di questo sviluppo rispetto agli obiettivi del rispetto dell'uomo. Quindi parliamo di people, prosperity, planet, partnership e peace. Tu invece ne aggiungi altre due, quindi dalle 5 P come keywords delle Nazioni Unite per gli obiettivi di un sistema che rispetti l'uomo, passiamo alle 7 P e tu aggiungi person e profit. Quindi inserisci il concetto insieme a gente, il concetto dell'individuo e forse quello che ci hai appena detto risponde già alla domanda che avevo in mente di farti, cioè persone e people sono antitetiche, in realtà mi sembra che invece il concetto dell'economia universale del quale ci hai parlato tenga insieme tutto, il soggetto e la collettività e poi profit. Questa è un'idea, questa diciamo dell'economia sferica che mi ha incuriosito molto, perché chiaramente tu sei un uomo che lavora all'interno del mondo della finanza da tantissimi anni, vedi le cose dal di dentro eppure parli di un tipo di economia che veramente ci fa venire in mente anche dei tuoi riferimenti, cioè Amadeo Giannini che è il primo uomo italiano che diede accesso al credito, aiutò le famose PMI, le piccole e medie imprese italiane in America e grazie a lui poi nasce Bank of America e Iusun, se non mi sbaglio, che in realtà fa un tipo di economia sempre di microcredito, non mi sbaglio? Sono questi i tuoi riferimenti quando pensi all'economia strana? Allora, sono sicuramente due modelli molto interessanti perché hanno saputo interpretare in maniera estremamente virtuosa lo spirito del tempo nel quale loro hanno vissuto e lo spirito della loro dimensione spazio-tempo, perché è giusto collocare Giannini in un momento storico molto particolare, in un'America fortemente in crisi ed è stato il fondatore, il primo attuatore, quindi è incarnato probabilmente dei modelli valori della sua vita ai quali se si studia la sua autobiografia potremmo scoprire essere originati dall'educazione che ha ricevuto, perché vi invito a leggere il libro, la sua autobiografia è anche un libro scritto molto semplicemente, accessibile a chiunque, molto bello, molto puro, molto sincero e si scopre la vita di un uomo che è stato educato dai suoi genitori naturali e poi da un padre adultivo ad un sistema valoriale che poi quando c'è stato bisogno di manifestarsi per la propria essenza nella dimensione professionale ha fatto sì che lui sapesse interpretare in quel momento storico, in quell'America, spazio-tempo, un modo di fare banca che è stato a tutti gli effetti disruptive nella sua semplicità. Noi oggi correlliamo il concetto di innovazione, spesso la tecnologia, ma l'innovazione è proprio in stato mentale. Citavi Yunus, no, Cri, perché è andata via un attimino la voce prima. Ok, citavi Yunus. Yunus, ugualmente in un altro tempo, in un altro luogo, torniamo quindi alla dimensione del spazio-tempo, comprende come il diritto di tutti, che è proprio un diritto umano, un diritto fondamentale di poter accedere alla finanza per essere parte attiva di un sistema economico, per quanto uno possa essere in una situazione molto precaria in un'architettura economica di un paese, parliamo dell'India rurale, intravede nella figura femminile dei villaggi rurali dell'India un potenziale fruitore di un servizio di credito, che poi è diventato un microcredito, che nessuno si è prefigurato prima. Questo per dire che loro hanno interpretato perfettamente la dimensione spazio-tempo, ma la cosa che vedo è molto interessante la tua domanda, non ci ho mai riflettuto, comune ad entrambi, è che hanno riconosciuto nel valore della fiducia il valore fondante, perché Peter Giannini ha dato credito a gente per le strade, ai crocicchi delle strade di New York si è messo a derogare credito a persone alle quali nessuno avrebbe dato fiducia e quindi di credito, stante il momento di crisi, è sulla parola a erogato e tu puoi capire che un uomo non fa nulla, che si vede da un momento in cui tutti stanno soffrendo, che altro può provare se non un senso di gratitudine? Sono certo che qualcuno dei suoi clienti, scusami la parola che sembra volgare nella tua metafora, ma in realtà chiamiamo anche le cose per come stanno, l'avrà magari anche tradito e non gli avrà restituito il suo debito, ma io sono convinto che chi gli è stato grato dal principio e ha potuto restituire, gli ha restituito mille volte tanto, non ci spiegheremmo come altrimenti lo abbia potuto fondare la banca più importante di quel paese. E figurati se le donne di un villaggio rurale indiano abbandonate alla periferia di un sistema economico di un paese semplicemente per il loro inquadramento sociale non siano grate a chi ha dato loro fiducia per creare le condizioni perché potessero avere una vita migliore. Allora, perché è interessante la domanda? Perché questi due modelli ci evidenziano l'importanza di mettere l'essere umano al centro. La finanza deve tornare a recitare il suo ruolo di mezzo, di strumento, mentre è diventata e finita ad assumere il ruolo di scopo ultimo. È l'essere umano che è il destino ultimo di ogni singola azione quotidiana delle nostre vite. È l'umanità nella dimensione non della specie, ma proprio della nostra essenza interiore che deve essere il destino ultimo, per il quale la finanza o l'economia devono mettersi al servizio. Perché arriva l'idea di economia sferica? Anche qui è una derivazione degli studi fatti con Patrizio Paoletti, perché poi c'è tutto un modello che lui studia e insegna che è il modello sferico della coscienza, che non abbiamo tempo di spiegare, poi è lui in realtà che trasmette questo insegnamento e non io, ma semplicemente ho fatto una riflessione ed è un'evoluzione del principio di economia circolare, che è di enorme attualità in questo tempo. Però anche qua l'economia circolare, che secondo me è una necessità fondamentale perché risponde a un'istanza, a un'urgenza di questo spazio-tempo, non è sufficiente. Spiego. L'economia circolare, semplificando le minimi termini, è una evolutissima interpretazione dell'economia che a un certo punto, sotto la pressione di questo momento storico, si dice ricicliamo, recuperiamo, reinseriamo questo suffisso. Però io mi dico, continua a mancare l'essere umano. Bene, ho una macchina, anziché buttarla, la smonto, la riciclo, la rimetto. Certamente ho ridotto l'impatto, certamente è stato molto virtuoso, no? Pensiamo all'impatto dell'industria come l'oil, come il fashion, no? Che sono estremamente impattanti. Ma nuovamente, perché faccio tutto questo? Che cosa anima tutto questo? Qual è lo spirito, l'essenza di questa ulteriore virtuosa interpretazione dell'economia, per quanto necessaria? Non ci confondiamo col fatto che siccome è green, allora è buono. Se ieri noi uccidevamo o ci inventavamo guerre per andare a occupare terre di un altro popolo, solo perché c'erano già cimenti di petrolio, perché attorno al petrolio gira tutto il sistema economico mondiale e domani decidessimo che il mondo deve andare green e quindi che le macchine non vanno più con la benzina ma vanno elettriche. Dobbiamo sapere che le auto elettriche girano grazie alle batterie, che uno dei materiali più importanti per fare le batterie è il litio, che il litio è una risorsa rarissima, è una delle cosiddette terre rare e che il litio quindi se girerà tutto a motore elettrico sarà uno dei nuovi ori, uno dei nuovi beni. Quindi l'uomo malvagio se ieri uccideva per il petrolio, domani ucciderà per il litio, cioè non so come dire, è un processo di una logica lineare assoluta. Non è che chi produce litio è più buono di chi produce petrolio solo perché il litio inquina meno, peraltro il costo di estrazione in litio è un costo sociale enorme. Allora ritorno all'idea, mettiamo l'essere umano al centro, quindi nel cerchio, che è una figura bidimensionale, si aggiunge una terza dimensione al centro del cerchio, immediatamente il cerchio diventa tridimensionale ed è lì che nasce la sfera in economia. Quindi un'economia con l'essere umano al centro di tutto, come primo attivatore del processo e ultimo fruitore in maniera virtuosa del processo medesimo. L'essere umano con le sue aspirazioni più intime e profonde, l'essere umano radicato nella sua storia ma con la sua vocazione, che non può essere quella di diventare ricchi, perché la ricchezza, esattamente come il nostro corpo, deperirà, ma noi vivremo in eterno in quella parte di noi che abbiamo donato agli altri, recitava Rumi, che è uno dei più grandi mistici dell'Islam. E allora è lì che mi viene a dire cosa accadrebbe se mettessimo veramente l'essere umano al centro di tutto. Questa economia sferica, poi pensi che la sfera è una figura perfetta, tutti i punti sono equidistanti dal centro, è democratica. Sotto la pressione la sfera non si rompe, si sposta, è un essere intelligente, è un essere quindi democratico, è un essere perfetto. È una figura che mi ha ispirato tantissimo, attorno alla quale sto cercando di traslare i principi fondamentali dell'economia, stante per l'appunto la matrice originale degli insegnamenti che sono quelli di Patrizio. Senti, mi viene in mente che tutte queste riflessioni probabilmente non sono solamente nelle nostre parole in questa fase, perché le persone stanno a casa per via dell'emergenza, peraltro abbiamo scoperto che gli italiani sono tornati ad appassionarsi all'informazione, all'attualità, ci siamo anche forse più percepiti come popolo, quindi è probabile che le persone in questa fase stiano ragionando attorno a queste tematiche. Comunque ponendosi delle domande, dal tuo punto di vista questa pandemia, quindi questa fase di lockdown, ci cambierà veramente? Cioè la gratitudine che è la parola chiave di questo saggio ed è anche un po' immagino la parola chiave della tua vita assieme ad altre parole, mi sono segnata con passione, ho segnato opportunità, fiducia parlando di Giannini, però la gratitudine secondo te diventerà come auspichi il motore dello sviluppo sociale, culturale ed economico post pandemia, anche rispetto a come dire le misure che sono state prese non ultimo con la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte ieri dal Governo per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Tu senti che questo è il momento in cui la rivoluzione necessaria che teorizzi può trovare il terreno fertile? Cioè è lo spazio-tempo di questa rivoluzione? Allora, partiamo dalla fine, finirà, questa cosa terminerà, non sappiamo quando, non sappiamo come ma terminerà. E se terminerà, cosa mi preoccupa? Uno, il cosiddetto, si sento parlare spesso del ritorno alla normalità. Allora, un concetto che mi può, mi intimisce, mi preoccupa, no? Perché abbiamo lasciato pre-pandemia, pre-Covid, una situazione che non era esattamente normale, ok? Pensiamo a livello di diritti umani, pensiamo alla situazione dell'ambiente del nostro pianeta, pensiamo a tante cose. Quindi io non mi auspico un ritorno lì e non mi accontento del fatto che allora fosse meglio che adesso e che quindi un ritorno a quella condizione, bene o male, è auspicabile. Trovo invece che sia un'occasione enorme che noi si possa avere. L'immagine che ho avuto è quella proprio di uno Stargate, è come io sono tanti anni che sto cercando di specializzarmi nello studio dei megatrend e dei cosiddetti grandi scenari, no? Ho l'occasione di confrontarmi con tante persone, specialisti in tutto il mondo, non ho certamente la verità, ma mi sono fatto delle idee. Era un futuro prevedibile, non è un caso che questo libro scrivessi prima del Covid e se uno leggesse il mio primo libro Il tempo dei nuovi eroi, lo troverebbe, ha solo tre anni, ma lo troverebbe di enorme attualità. Adesso il futuro è come se ci fosse corso incontro velocissimamente e noi siamo sulla soglia di una porta che è proprio uno Stargate. Possiamo entrare in una nuova dimensione spazio-temporale. Allora, io dico facciamolo, facciamolo, ma non per tornare alla normalità e neanche, perché mi preoccupa anche un po' quello, l'idea del ripartire, ricostruire, rinascere, perché mi è chiaro che questo ri significherebbe anche nuovo, ma come lo sento citato sui mezzi di comunicazione, nella comunicazione quindi mainstream, mi preoccupa un po', perché sento ancora quel bisogno del ritorno alla normalità. Invece, io dico, se abbiamo costruito un mondo che non funzionava perfettamente, poiché siamo ancora noi alla guida di quel mondo, noi, tutti noi, noi singoli, che altro potremmo fare se non ricostruirlo come era prima? Mentre noi dobbiamo costruire qualcosa di nuovo. Nel caso si parla di innovazione, che significa sul vocabolario alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove, cito testualmente. alterare l'ordine prestabilito, cioè quello della costruzione precedente, per fare cose nuove, non per ricostruirle come prima. E quindi nella narrativa mi piace parlare di un mondo nuovo, di un'Italia nuova, di un paese nuovo, di un essere umano nuovo. E qui c'è il tema, ad esempio, del distanziamento sociale, no? È una parola terrificante, distanziamento sociale. Noi stiamo vivendo, noi stiamo vivendo al massimo un distanziamento fisico, tanto per incominciare, perché se non chiamiamo le cose per quelle che sono, il nostro cervello si confonde e al distanziamento fisico si dà un significato e al distanziamento sociale rischia di darne un altro. Poi qua sorge la domanda, sono così stupidi che non hanno capito la differenza? O è funzionale chiamarlo sociale inziché fisico? Lasciamo la domanda sospesa perché non voglio aprire filoni complottisti o paralleli, però certamente mi pongo la domanda. A me non me ne frega nulla del distanziamento fisico, è un momento enorme per ricaprire, riappropriarci del potenziale che abbiamo come esseri umani. Non saranno certo due metri di distanza che mi impediscono di avere uno sguardo intenso per colmare quello spazio. Tu sei un'attrice e sei tra l'altro fantastica. Tra l'altro ultimamente te l'ho detto, continui a ricorrere, ogni tanto facciamo zapping, ultimamente ho visto un sacco di film. Tu lo sai perfettamente, l'intensità di uno sguardo va al di là della distanza fisica. Lo spazio del teatro, quando reciti la presenza fisica di un corpo a fianco di un altro, non può impedire l'emanazione di un'energia solo perché sei a due metri di distanza, ma neanche a duemila metri di distanza. Puoi essere meno innamorato di tuo figlio perché non lo vedi? Perché non lo tocchi? Certo, non può essere la condizione per sempre, ma non ci confondiamo. L'essere umano ha delle facoltà che vanno bene al di là di questo. Quindi potrebbe essere un'occasione interessante per riappropriarci di facoltà che abbiamo, che si sono magari un po' addormentate, per riappropriarci della facoltà di essere intensi, essere veri. È come se questa condizione potesse enfatizzare i nostri talenti. Non me auguro per sempre, ma non ne voglio certamente restare vittima, anzi voglio essere parte attiva e in questo mi verrebbe da dire che è compito di tutti. Il piccolo principe lo diceva, essere responsabile, essere un singolo individuo responsabile del tutto. La fisica quantistica l'ha dimostrato? Ogni piccola azione, ogni piccolo pensiero, essendo noi tutti interconnessi in un grande campo elettromagnetico, influenza il tutto. Viviamo in un'epoca storica bellissima, in cui possiamo essere veramente nella condizione consapevoli di esserlo, di essere motori di un cambiamento che incide su tutta la collettività. Essere umani è essere grati. È un hashtag che così mi è uscito recentemente. Essere umani è essere grati. Senti, abbiamo parlato di, insomma, velatamente, siamo passati sull'interpretazione, sul teatro, quindi sento forte il senso del tuo interesse anche per l'arte scenica, ecco, per quest'ante che da cinefila chiaramente ho notato. Perché tu inizi questo libro riportando interamente il monologo filale del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin e racconti, come dire, l'effetto che questo monologo ha prodotto sulla vita di Chaplin, sulla vita di Chaplin non in quanto interprete, ma in quanto persona. E mi faceva piacere intanto capire se senti tu e le parole di questo monologo che ha chiaramente un'età e uno spazio-tempo nettamente diversa da quella che stiamo vivendo. E in qualche modo se ritieni che esista il film, abbiamo parlato anche del male. Se esista una correlazione per cui oggi non si può più parlare di male, ma si debba parlare di aspetti dell'esistenza e che in realtà in molti casi il male, cioè l'antitesi, in realtà poi serva affinché si giunga alla sintesi del bene. Quindi sono due domande diverse. in realtà se senti tu le frasi di Charlie Chaplin in quel monologo e se racconti un pochino anche a chi ci sta seguendo che cosa subì Charlie Chaplin per quelle parole e dall'altro lato il bene e il male. Chaplin, partiamo dalla fine. Dopo quel monologo è stato un po' isolato. Esatto. Adesso non so se fosse ai massimissimi della sua carriera, ma certamente era già affermato. E diciamo che la sua affermazione come personaggio pubblico non è stata suffice per garantirgli un'indennità da chi ha reagito malamente a questa sua dichiarazione che a tutti gli effetti è stata una dichiarazione forte. Sostanzialmente lui invita le persone, almeno così come l'ho interpretato io, spero di essere sufficientemente prossimo alla verità, ad assumersi un po' di responsabilità. In questo punto, incarnando questo ruolo del grande dittatore, invoca i soldati con un punto esclamativo. Soldati, no? Io mi sono sentito soldato in questo punto, ma soldato nell'accezione nobile del termine, cioè colui che coper, colui che ha una causa che vuole difendere. Non cadiamo nella metafora guerresca, perché altrimenti poi ci porta una dimensione, secondo me, distanza il senso di quella dichiarazione, altrimenti dovremmo pensare che il grande dittatore in quel caso fosse un malvagio, no? E proprio è lo stesso concetto ribaltato nella dimensione del bene, come se Chaplin fosse un mago bianco, cioè la magia, la parola magia deriva dal pressione antico maha, che significa conoscere, no? La magia è conoscenza. Detto questo, la magia può essere bianca o nera, cioè tu la puoi usare per il bene o per il male, come la formula atomica. Ci puoi costruire un qualche cosa o ci puoi distruggere Nagasaki e Hiroshima, ma non è nella formula atomica, cioè nella conoscenza, la connotazione benigna o maligna. È come l'essere umano, no? Decide di usare quello strumento. Torniamo alla centralità dell'individuo. Quindi Chaplin vede un richiamo all'umanità a rimettere se stessa al centro delle proprie azioni, assumendosi, ciascuno guarda un po' nella sua sfera di influenza, torniamo al concetto sferico, la propria dose di responsabilità, no? Ribellandosi alla mediocrità, ribellandosi a chi ti dice non è possibile, non hai l'età, non c'è più tempo, è un'epidemia senza soluzione, no? Ribellandosi anche a sofferenza di una perdita che ti vorrebbe deprimerti, no? Quando invece tendo a dire purtroppo bisogna trovare una modalità anche per interagire con quel grado di intensità della vita, perché una morte resta comunque un'occasione per chi rimane. Al di là della sofferenza oggettiva, le cito con grande rispetto, per chi ha sofferto in questi giorni lo stia soffrendo. Quindi io dovessi dirti una prova chiave di quel monologo è responsabilità, che non a caso ha la bellezza delle parole, è l'abilità di dare risposta, cioè l'abilità di dare risposta. Dovremmo tutti riprenderci la nostra dose di responsabilità per essere motore di cambiamento, per fare quella rivoluzione che un dittatore, tornando a Chaplin, non si augurerebbe, perché lui vessa al popolo, nella sezione canonica del termine dittatore, mentre lui lì è un liberatore, non è un liberatore di coscienza, è un attivatore su scala collettiva di un popolo che vorrebbe ribellarsi. L'hanno isolato da quella dichiarazione, quasi reietto, grandi, che è rato dire, o almeno si dice, all'inizio ti ignorano, all'inizio ti ignorano, poi ti deridono, combattono, poi hai vinto. Quindi dove c'è novità, dove c'è portatore di libertà, all'inizio sicuramente viene ignorato. Poi vieni deriso, perché è il primo tentativo per distruggerti, ti vogliono ridicolizzare. Poi quando iniziano a vedere che sei interessante ti menano, e secondo me ti menano perché incarni il modello, incarni la possibilità, cioè nel guardarti gli altri potrebbero iniziare a dirsi, porca miseria, ma se l'ho fatto lui posso farlo anch'io. E lì quando sei a tanto così, da avercela fatta, il sistema inizia a menarti, che però non sto dicendo, anche qui va inteso, è una metà, andiamo per strada, bruciamo i cassonetti, stassiamo le vetrine, arriva il poliziotto, ci mena, e uno si dice, vedi, mi hanno menato, erano il giusto. Non sto intendendo questo, spero si comprenda. Perché sai qui, la vera lotta oggi, secondo me è contro l'acrità, è contro la rendevolezza, è contro la deresponsabilizzazione a cui tutti ci sottoponiamo troppo spesso, parlo meno per me. Quindi ci vuole un'intelligenza collettiva, un'intelligenza di sciame. Il concetto di bene o male apre un file enorme su quale non mi sento preparato per risponderti, ti rispondo con semplicità, non me ne volere nella mia vita. È male tutto ciò che produce un vantaggio solo per me. È bene tutto ciò che attraverso di me produce un vantaggio per tutti, ma tutti, tutti, tutti. E qui voglio citare nuovamente Patrizio Paoletti, che mi ha aperto un file recentemente, nel mese, che ama condividere questo pensiero. Come noi ci si è evoluti, come specie, passando da un paradigma che per secoli è stato mostruita da mea, cioè l'affermazione è sempre passata attraverso la distruzione dell'altro. Tu pensa nell'antichità, le guerre, ma dall'epoca preistorica, no? Siamo arrivati al paradigma mors mors mea. È stata talmente forte l'illusione che ci siamo detti, vabbè, per poter vedere te, morire te, piuttosto muoio anch'io, no? Per poter affermare il mio credo distruggendo il tuo piuttosto muoio, che è un paradosso, no? Può Dio desiderare la tua morte volontaria? Non so come dire, al di là che si credano in Dio mi sembra veramente un paradosso. Dobbiamo arrivare al paradigma tua, vita mia. Cioè noi dobbiamo comprendere che l'unica via che abbiamo di salvezza interiore è la vita dell'altro. Perché la sostenibilità? Perché viviamo in un sistema di interconnessione totale, ma l'interconnessione non è quella del web. L'interconnessione è quella della fisica quantistica che ha scoperto che viviamo tutti in un grande campo elettromagnetico, è la ragione per cui siamo tutti interconnessi, è la ragione per cui ogni mia singola azione incide sul tutto. Ora, è fantastico in questo momento perché o lo credi in nome di Dio o lo credi in Dio che è determinante per il tutto. Cioè ci è tolto la libertà di sentirci non incidenti. In quanto incidenti, cioè che possono incidere, a questo punto hanno la scelta di assumerci la responsabilità oppure no. Se però non ti vuoi assumere la tua parte di responsabilità, se fossimo in una delle nostre camminate io e te ti direi almeno però non rompere le palle. Capisci? Perché non se ne può più. Non se ne può più. Se tutti facessimo il nostro, nella nostra sfera di influenza, produrremmo una quantità tale di gratitudine del mondo verso di noi che sarebbe fantastico. Cioè io guardo un tuo film, se lo interpreti bene, ti sono grato perché comunque hai dato un senso alla mia serata. Capisci? Non posso pensare che te lo faccia solo per lavoro. Shakespeare può aver scritto quello che ha scritto per guardare una sterlina in più, cioè santo cielo, no? Uno che scrive siamo fatti della stessa materia dei sogni. No, no, certo. Può aver scritto una cosa così per una sterlina. Ma poi è giusto che gli dia una sterlina. Non so come dire. Ma quella è la logica conseguenza. Non può essere lo scopo. Quello diventa un mezzo. Allora abbiamo sicuramente affrontato tanti argomenti e probabilmente avremo bisogno di ore per diciamo mettere a terra tutto quello che è all'interno di gratitudine e la rivoluzione necessaria. Che comunque si propone come un saggio al pubblico, però un saggio poco perché ha una bellissima grafica, è un po' anche un libro da collezionisti se vogliamo ed è un punto di attenzione che hai avuto circa proprio la parte estetica e in più diciamo è propositivo rispetto ad una, forse ad un ritorno all'umanesimo, no? Gli umanisti avevano questo mantra di mettere l'uomo al centro e di consumare la propria esistenza ognun per sé nella ricerca di se stesso. Questo è anche ciò che si propone questo libro e poi all'interno di questa storia troveremo diversi spunti, no? Tra i quali appunto quello di immaginare la gratitudine è un po' come un indicatore del benessere della società. Ora, dato che siamo in chiusura, abbiamo sforato, però ne valsa la pena e lo vediamo anche dall'attività della chat che è costante e ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito e facciamo un grande in bocca al lupo per questi probabilmente ultimi giorni di lockdown molto intenso, sperando in una ripartenza serena. Allora, il nostro autore Oscar Di Montigny, di che cosa è grato? Cioè a chi sei grato Oscar? Da quale punto è partita la tua necessità di utilizzare la gratitudine un po' come bussola nella tua esistenza? Qual è stata la prima cosa alla quale hai pensato immaginandoti come uomo grato? Allora, noi sostanzialmente ci manifestiamo in tante dimensioni, tutti noi, però se volessimo semplificare ai minimi termini mi verrebbe da dire abbiamo una dimensione pubblica e una dimensione privata, ok? Abbiamo una dimensione esterile e una dimensione interiore. Allora, nella dimensione pubblica ciascuno di noi può essere la dimensione pubblica, la dimensione afferente, che ne so, al proprio lavoro, le proprie relazioni sociali e anche lì uno dice bene, a cosa tendo io in questa dimensione? Cioè in questa dimensione, quando mi manifesto in questa dimensione, a che cosa aspiro, no? Lì scopri che è assipimento, ha una validazione di quello che sei, no? Tutta la struttura, l'architettura è costruita per premiarti, no? Lavori, c'è lo stipendio, le relazioni sociali, le hai, vieni riconosciuto per quello che sei o per credi di essere e così via. Nella dimensione invece privata, la dimensione se vuoi degli affetti, quindi quella della famiglia. E nuovamente, magari se nella dimensione pubblica posso sintetizzare in un valore, lo faccio per comodità, cosa può essere? Quello del riconoscimento, quello del rispetto. Nella dimensione degli affetti, quella più intima potrebbe essere quella dell'amore, no? Se è mio figlio desidero amore, ancora prima che il riconoscimento, certamente non desidero essere patto per svolgere il mio ruolo. Bene. Ad un certo punto io ho osservato che per quanto mi sforzassi di generare rispetto alla mia dimensione pubblica e di essere amato in quella alta, questi due sentimenti, come chiamarli, direi valori, preferirei, non erano mai tanto importanti quanto il senso di gratitudine. Spiego. I miei figli potrebbero, mi auguro tanto, questo però non è garanzia di gratitudine da parte loro nei miei confronti. I miei collaboratori, il mio mercato di rifiuto nel quale mi manifesto come imprenditore e o come manager, potrebbe essere un mondo che mi dà rispetto per quello che valgo, per quello che faccio, per quello che dico, per quello che guadagno, per, per, per. Ma questo non è garanzia di gratitudine. Allora, poi guardo la mia dimensione e dico, sono più le persone che amo e che rispetto, sono più le persone a cui sono grato. Sono più le persone che mi amano e che mi rispettano, sono più quelle che mi sono grato. E ho scoperto che la gratitudine è merce rara, perché la gratitudine è fortemente correlata all'impegno, all'assumire responsabilità, a non essersi rilevati. Ma poi c'è anche una dimensione interiore. Quante volte io per primo divento censore di me stesso, no? Non mi so rispettare, non mi so amare. Ecco che trovo una dimensione molto interessante da indagare. Io non ho una risposta. Il libro non fornisce risposte. Io non do risposte. Però sono stato educato, ad esempio, da Patrizio al fatto che ogni domanda sia già gravita della sua risposta. Se non trovi la risposta, riformula la domanda. Io ti fido di chi dà risposte. Trovo interessante frequentare mondi e persone che ti aiutino a indagare in una maniera più inclusiva. Io poi non sono abile a selezionare, perché poi bisogna includere e sapere selezionare. Se no poi non basta un risultato. Quindi per me la gratitudine è veramente un valore altissimo. È proprio un riscontro della vita. Tu prima citavi le 7P, che è questo modello a cui sto lavorando, che non tanto avevo risposte canonizzate dalle nanite. People, partnership, prosperity, peace. Che dovrebbe essere la sintesi dei 17 obiettivi globali. Che dovrebbe essere il meglio come schema a cui tendere per dirsi sto avendo una vita sostenibile. 17 obiettivi riguardano i diritti, le libertà, l'educazione, al cibo, all'acqua, alla protezione dell'ambiente e così via. Però secondo me ne sono le famose 5P delle Nazioni Unite. Secondo me ne mancavano due, che tu hai citato, che sono person, prima di people e profit. Profit perché? Perché se noi continuiamo a rilevare il concetto di profitto dalle nostre vite, continuiamo a demonizzare, ad esempio, il denaro. Perché? Perché confondiamo il denaro, come diciamo prima, nel suo ruolo da mezzo a scopo. Il profitto non è proprio il frutto. Il profitto però è il suo frutto. Il profitto di una pianta è il suo seme. La nostra vita deve produrre frutto, deve produrre un profitto. I miei figli sono la mia restituzione alla vita. Uno poi restituisce con un figlio, uno restituisce in mille modi. E soprattutto c'è il tema della prima, che è la P di person. Perché se noi continuiamo a pensare su scala people, è tutto sempre qui in terza persona, no? I bianchi e neri, gli italiani, i tedeschi, i cristiani, i ormai. No, la person. Cioè chi sono io? Perché sono io l'unità atomica di people. E lì c'è tutto un mondo interiore, perché poi c'è la dimensione interiore. Senza quella interiore fuori è solo accidentale la vita, è solo meccanica. E lì c'è la parte interiore, che credo che vada indagata da ogni essere umano. Ciascuno è libero di scegliere il percorso in cui crede, ma mi sembra abbastanza terratiato nell'idea della necessità di un percorso interiore, senza il quale la vita esteriore rischia di essere solo frutto di fortune o sfortune, che poi peraltro nemmeno esistono, perché è puro accidente, meccanicità. Allora, io direi che possiamo concludere così, cioè augurando che tutti possano, come dire, andare alla ricerca della propria interiorità e che forse questa fase può aiutare. Quindi ricordiamo il libro di Oscar di Montigny, Gratitudine e la rivoluzione necessaria, edito Mondadori, tramite la libreria Luxemburg di Torino, oppure online o nelle librerie aperte che trovate vicino a casa. È un saggio, una buona lettura, io l'ho apprezzato molto, come chiaramente spero possiate fare anche voi, ma dalle domande. Eccola la copertina che vediamo in diretta, spottone, e siamo qui per questo. Sì, ce l'avevo. Esatto, esatto. Va bene, grazie Oscar davvero per averci tenuto compagnia e un saluto a tutti gli ascoltatori facebookiani del Circolo dei Lettori. Ciao! Grazie Cri, grazie, 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 ti ho amata molto. Grazie, ciao! Ciao! Ciao!